Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono CioTrey e oggi siamo ragazzi con un nuovo vlog della serie Parliamo del mio setup. Allora praticamente qua c'ho il treppiede e qua sto registrando il microfono con un audacity Aggiusterò il cable management. Perché? Perché a parte qua io vedo stazioni dove i fili non esistono Sembrano tutti wireless. Qui c'è lo schifo, ragazzi c'è il manicomio, vabbè a parte lo sgabello lì C'è lo schifo e io non ce la faccio più. Perché questa volta ti metto lo sgabello qua, metti i piedi e no, non si può stare In questo video cercherò di registrare il cable management, ora metterò la fotografica qui Ci sarà un piccolo timelapse e ci torterò qualcosa. Possiamo andare Allora andrò a levare qualcosa, estemerò qualcosa qua nella ciampata Allora intanto non stacchiamo cose perché qua mi esplode tutto Certe volte il computer si stacca... Cacchio io sto facendo la sedia Certe volte il computer si stacca la presa perché è molto sensibile Forse devo staccare qualcosa quindi stacco tutto e ci vediamo dopo Ho dovuto spegnere i led e anche il monitor, purtroppo ora devo registrare qua Nel primo schermo. Vabbè tanto il computer ha la batteria quindi non è un problema Meno male che non ho un fisso Raga sta sedia è troppo ingombrante Perfetto Questo casino di fili, non si capisce niente Allora io ordino questi fili Allora forse il microfono è lontano però cercherò di farmi sentire Parlo più forte Bravo bravo Allora qui stacco l'alimentazione Questo è il monitor, questo è il led Allora la cabatta io non usurò scotch, cerco solo di aggiustare questo cable management Di farlo diventare più punto Questa presa l'attaccheremo dopo Ok il microfono è qua, così mi sentirò da qua Quindi qua c'è un casino Cercherò di mettere i cavi molto più in ordine perché non ce la faccio più Questo dei led non so come fare Se così metto questa qua E non mi sta avendo il nome Per fare il filo più corto possibile La parte più indispensabile Ok lo farò dopo Qua anche Tipo lo torciglio o una cosa del genere Vediamo cosa riesco a fare Allora praticamente è passato un giorno Infatti ho messo tomorrow Praticamente è questo il più po' meglio Allora ho fatto tanti miglioramenti Ma tanti Vi lascio prima e dopo Ma non dico un cable management di ultima generazione Ad esempio con la ciabatta sopra Attaccata con lo scotch O che ne so col bioadesivo Oppure che i cavi non si devono vedere proprio Cioè vi dico solo che i cavi li ho nascosti tutti qui Ma tutti E io ho un portatile Immaginate un fisso Se avevo un fisso un manicomere c'era Dei serpenti ci sono incredibili Li ho nascosti tutti qua dietro Purtroppo questi non li posso nascondere Ad esempio questo qua Lugia Però almeno non si vedono E c'è più un ordine almeno Qua c'è un casino Avete visto che ho torcigliato questo cavo Siccome già l'avevo detto che Devo lasciare un pochino di parte Scusate se parlo così è perché sono tutto abbassato Siccome questo cavo si stacca facilmente Perché dovrei attaccarlo con il nastro isolante Non devo lasciarlo troppo tirato E quindi l'ho torcigliato qua Qua ho toccato la ciabatta Purtroppo la ciabatta è qui Quindi non posso nascondere nessun filo E niente Quali sono altre prese inutili Che userò in futuro Normalmente c'è questo Il coso degli scalander Che ha questa presa Ma non l'utilizzo mai Però lo lascio così per abbellimento Questa era la migliorazione del cable management Raga volevo dirvi che Praticamente Mi hanno fatto un regalo di Natale Raga Bellissimo Vi dico solo Che è la mia marca preferita Già vi ho detto tutto Quindi io ho ordinato questi qua Mi arriveranno il Non vi dico neanche il giorno Perché poi ci farò un video Ma è un computer normalmente Ancora quello come in zoom E un accessorio che è molto utile No la sedia no Perché non lo so Compriate da poco Quindi ragazzi Io posso un video Vedere quel video Se lo vedete Iscrivetevi E noi ci vediamo A prossimo video Ciao Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.